L'accordo sulla Recovery Fund è a bilancio 2021-2027. Thiel, scrive il presidente del Consiglio Europeo Michel su Twitter, pochi minuti dopo dichiara ce l'abbiamo fatta, l'Europa è unita. Può dunque vedere la luce, il piano straordinario da 750 miliardi per salvare i paesi più colpiti dal Covid, dal fracollo finanziario. All'Italia andranno quasi 209 miliardi. Il bilancio europeo 2021-2027 è rimasto a 1074 miliardi di impegni, ma sono stati accontentati frugali con ricchi rebate, i rimborsi introdotti per la prima volta su richiesta del Reino Unito ai tempi di Margaret Thatcher, che con la Brexit molti leader UE avrebbero voluto cancellare. L'accordo raggiunto raccoglie il plauso del presidente del Consiglio Conte. Abbiamo conseguito questo risultato tutelando la dignità del nostro paese. Ora avremo una grande responsabilità, 209 miliardi, abbiamo la possibilità di far ripartire l'Italia con forza e cambiare volto al paese. Ora dobbiamo correre e a chi gli chiede del MES risponde, non è questo il nostro obiettivo. Ci sono prestiti molto vantaggiosi. Il premier Conte annuncia, partirà presto una task force sul piano di rilancio. Soddisfatti anche gli altri leader europei.